No! Sim Salamina! Sim Salamina! Signori, Sim Salamina! Vi dia una mano, grazie! Ma che mano? Sim Salamina, lei e a tutta la sua famiglia! Sono tutti senatori là, stia attento, attenta alla spalla! Buonasera maestro! Bravissima! Ma che bravi, non ho fatto niente! Ecco, si metta lì sulla bottola, bravissima! Ma dove è la bottola? Signori, attenzione! Sim Salamina! Attenzione! No, però di te l'ho incoraggiato! La magia, l'illusionismo, la prestidiri giribiri... Digipresti di... Vuol fare il mago? Si prende la scatola e va a fare i suoi spettacoli! Allora, facciamo qualcosa di straordinario per questo straordinario pubblico, io ho lavorato nei grandi teatris... Voce, voce, voce! Veramente! Come farò? Sceglierò un personaggio fra il pubblico in un modo molto semplice, lancerò questo mattone... No! Scherzavo! Prendilo te! No! E' successo qualcosa? C'è un dottore in sala? E ora, attenzione, signori, un sacchetto di seta... Attenzione! Questo è il tipico rumore della seta... Non cominci, eh! Va bene! Mi sembrava... Attenzione, signori! E' quello che ho fatto! Signori, signori, attenzione! Attenzione! Ci puoi incazzare, si applaudono! Nell'interno di questo sacchetto c'è una previsione, signori, ecco qua! Uno, due, tre, quattro, cinque fulari! Guardate a tutti! Fulari! Fulari! Ma non sono fulari! C'è chi vede la bottiglia mezza piena, chi mezza vuole... Eh, per vedere quello che... Io dei colanti! Senti, chi sono? Queste sono della nonna della Marcuzzi, che è brava! La metta qua un attimo! Attenzione, attenzione, attenzione! Questi cinque fulari, signori, attenzione! Sono dei modelli particolari, dei modelli che io ho scelto per questo straordinario spettacolo! Silvano! Silvano, dove va? Sono esperitato! Ah, sì, da qui qua! Bravissime! Bravissime! Dai, dai, usiamo, su! Tieni il grito, dai! Attenzione! Prendiamo questo e lo mettiamo nell'interno del sacchetto, prendiamo questo qui, il modellino normale... Tutto è mutante! C'è il modello coprente, puoi metterlo tre settimane, non so, non c'è nessuno... C'è il modello... Ecco qua il modello, eccolo qua! Guardate, eh, guardate, attenzione, signori, all'interno... E poi questo così, attenzione, e questa corda in questa corda... Lascia questa corda, metterla in la mano! Signori, attenzione, guardate lentamente, ora i fulari si trovano nell'interno del sacchetto! Fulari! Fulari! Lei proprio rompe! E va bene, ma il fulari! Lei rompe! Mescoliamo, altrimenti si attaccano! È incredibile, guarda, ce ne sono tante! Sì, sì! Si attaccano! E va bene, immagino, immagino! Qui è il pubblico, dai! Metta la mano all'interno di questo sacchetto! No, ma io... Sì, no, no, lo deve far lei, lo deve far lei, attenzione, io non voglio assolutamente coercizzarla, io non voglio assolutamente infondere in lei, io non voglio penetrarla... No, maestro, per favore! Scusate! Metta la mano all'interno, prenda la prima mutanda che le capita, la estragga e la mostri bene a tutti! Sim, sala, min! È straordinario! Quando applaudi, ma che... È tutto lì, vai! Ma schiapplaudi! Che straordinario! È tutto lì! Ma fermi! È tutto lì! Ma questa è una truffa! Ma che gioco è straordinario? E' una mutanda delle sei mutande che c'erano! L'avevo previsto, signori! Se io avessi previsto tutto questo... Infatti, nell'interno di questo, eh, di questo c'è una busta! Previgiri miri ziri miri... È vero! Attenzione! Attenzione! vuole leggere cosa c'è scritto prego ma tutto io se non si attacca tranquillo non ci sono problemi io ma ascolta Silvano il mago di Milano codice di avviamento postale 2039 diciamolo libero professionista partita IVA 7432 magari c'è il mio commercialista esame delle urine colore paglierino ripeta colore paglierino ci tengo grazie nel pieno possesso dei miei poteri prevedo prevedo che quel rompiballe di Paolo Bisio non sono io Paolo Bisio sceglierà un paio di mutande Sim Salamin grazie signori con questo io vorrei ringraziare tutti ma chi dice che questi sono Salamin? e insomma lei allora proprio non ci crede allora darò la dimostrazione signore di fronte a tutti vai con la base signori attenzione guarda Sim Salamin attenzione l'avevo previsto la stessa mutanda è straordinario vorrei fare vedere a tutti se è possibile che le mutande sono le stesse che avevo previsto va bene ma che mi fa schifo ma no la stia giusta bravissima bravo ma lasci stare la urtica ti affermo fermi ma cosa ci vuole fare un gioco tu sono capace tutti anche i bambini a fare giochi così basta la musica vai con la musica grazie sì Salamin oh guardami eh bravo 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 io volevo Claudio Claudio per favore dai permette un attimo permette ma no ma no non piava non piava non piava ai milioni ai milioni ma non piava ma non finisce qua mi guardi attenzione mi guardi attentamente signori sei il mio potere e adesso alza il braccio sinistro bravissima adesso toccati con il naso con la lingua fallo ora muovi la lingua è il mio potere e adesso farai quello che tutti vogliono tu faccia tirati giù i pantaloni bravissima bravo 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 Sì, ma sarà lì!